Sullo stadio cala il silenzio mentre piazza la palla e il mondo intero resta in attesa. Potrebbe sembrare un gol inevitabile, ma guardate quanti fuoriclasse ci sono in quella barriera. Ci sono Messi, David Beckham, un grande Messi, un mini Messi e anche il Messi con la maglia del Barcellona. E in porta troviamo... Alfie! La sfida è tra Maradona e Alfie. Si avvicina alla palla, la colpisce di sinistro e... Oh! Che parata! Chi recupera la palla? Io! La rivolete, vero? Prendetela! Forza, forza! Ups! Fermo! È tua! E no! Ehi! Ridagli una palla, capito? È lui, quello di cui ti ho parlato. Allora, ti alzati, pergo! Forziere! Dai, puoi farcela! Invece no! Torna in porta, muoviti! Guardate e imparate! Sì, così! È un po' uno spaccone. Decisamente.